3.000 viticoltori, un suolo di origine vulcanica, colline coperte di viti, è il territorio della doc veronese del Soave, un paesaggio rurale talmente unico da essere stato iscritto a fine febbraio, primo in Italia, nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico istituito dal Ministero delle Politiche Agricole. Simbolo della viticoltura della zona è la garganega, coltivata con il metodo della pergola suavese. Dal riconoscimento del MIPAF, che ha valore simbolico, i produttori si aspettano anche risultati concreti. Aldo Lorenzoni, direttore generale del Consorzio di tutela del Soave Doc, spiega che il riconoscimento pone le basi per una ridefinizione degli strumenti di sostegno per la viticoltura in zone tanto particolari ed estreme e auspica che a breve si possano mettere a disposizione dei viticoltori di collina opportunità di finanziamento specifiche per questi territori. E se il Consorzio punta a fare leva su questo riconoscimento per ottenere risorse, la politica locale lo sostiene pienamente. Gaetano Tebaldi, vice sindaco del Comune di Soave, spiega. Il Comune di Soave è un comune di 7.000 persone circa ed è un comune che fonda la sua economia sostanzialmente su quella che è la viticoltura. La viticoltura oltre che essere nel paesaggio lo è anche nella testa della gente. Il nostro territorio ha avuto il riconoscimento di recente come paesaggio rurale storico. È stata la prima zona d'Italia a essere riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole. Questo sicuramente è un punto di partenza, è l'anno zero. Da qua si dovranno fare le scelte che andranno un po' così ad incidere sulla viticoltura suavese del futuro. In ogni caso, qualche risvolto pratico inizia già a vedersi. Tra i primi vantaggi che offre il discorso di essere stati riconosciuti come paesaggio rurale è quello che noi, assieme ad altri comuni di questo territorio, ci stiamo unendo e grazie all'attività del GAL, a cui noi siamo anche soci, sta partendo un progetto che andrà a unire sei amministrazioni comunali con un percorso di circa 20 chilometri di un percorso turistico chiamato il Dorsale della Storia. Suave, insomma, punta sul turismo di qualità. Sugliano appassionati che in questo territorio trovano un vino di paesaggio. Come sottolinea Paolo Menapace, presidente della strada del vino suave. È un bel riconoscimento questo per la strada del suave, per tutto il territorio del suave. Perché è bellissimo, veramente io ci credo e come me ci deve credere anche la popolazione, la gente, gli amministratori pubblici ci devono credere che abbiamo un territorio bellissimo turisticamente.